Papa Giovanni sale a questo supremo servizio della Chiesa quando io ho sette anni, quindi sono ancora un bambino e la conoscenza, da parte mia, è una conoscenza soprattutto di tipo televisivo. Sono i primi momenti della televisione in Italia e una delle immagini che è capace maggiormente di attrarre l'attenzione appunto anche dei bambini è l'immagine di Papa Giovanni che aveva questa dote di comunicare non soltanto con la parola ma appunto col suo volto, col suo sguardo, col suo sorriso, con la stessa sua gestualità che era una gestualità molto amabile, molto paterna, molto rassicurante. Per cui anche da bambini venivamo attraverso da questa figura del Papa, certamente una figura grande, alta, che immediatamente si può pensare lontana e invece così vicina anche attraverso questo mezzo che stava imponendosi. Peraltro poi cresco anch'io e le immagini diventano sempre più significative perché? Perché Papa Giovanni si impone veramente all'attenzione di tutto il mondo. Non posso dimenticare ciò che appunto sempre attraverso la televisione ci era stato comunicato in ordine alla crisi di Cuba. La crisi di Cuba rappresenta un momento particolarmente delicato, difficile, drammatico della storia del mondo e dentro questo momento splende la luce del Papa come uomo di pace, come uomo capace di condurre le grandi potenze, i grandi responsabili delle potenze alla pace. E quindi da qui anche l'eco, che pur ragazzo, ricordo benissimo della sua lettera Pace Minternis, che è un po' il frutto anche della sua opera di pace e quindi anche dell'azione di una Chiesa che non è ripiegata su se stessa ma appunto si adopera per le sorti del mondo e per il bene di tutta l'umanità. E poi il mio ricordo di lui, certamente, c'è con l'apertura del concilio e ancora una volta attraverso il mezzo televisivo con questa capacità di coinvolgere il mondo intero, cominciando dalle famiglie, cominciando anche dalla mia famiglia, attorno a questo grande evento. Ricordo come durante le sessioni del concilio quotidianamente c'era una rubrica della RAI di allora che dedicava al svolgersi del concilio stesso e quindi con tante immagini del Papa, certamente quella famosissima dell'inizio, della sere, della carezza ai bambini e poi via via, fino al momento della sua morte, che pure ricordo benissimo, ancora da ragazzo, con questa folla in piazza, la preghiera della gente durante i giorni dell'agonia, fino alla sua morte. Insieme a questi ricordi, ripeto, filtrati soprattutto dal mezzo televisivo, ci sono dei ricordi molto personali, nel senso che io da ragazzo, giovane seminarista, proprio tra i primi libri che ho accostato e ho letto c'è stato il giornale dell'anima. Devo dire che altre riletture del giornale dell'anima del Giovanni XXIII sono avvenute durante la mia vita, ma quella della mia giovinezza rimane indimenticabile, proprio perché anche lui narra della sua giovinezza sacerdotale in questo giornale e quindi c'è un afflato che passa in persone giovani, come ero allora io, quando ricordavo e appunto avevo conosciuto il grande Papa, Papa Giovanni. Il messaggio di Papa Giovanni è ancora di grande intensità, vorrei dire per certi versi è un'intensità che supera il messaggio verbale, il messaggio razionale e arriva a toccare i cuori e il messaggio della pace. Papa Giovanni interviene in maniera significativa sui temi della pace e appunto in circostanze anche drammatiche della storia umana. Papa Giovanni scrive sulla pace, l'indimenticabile pace mintertis, Papa Giovanni è un uomo di pace, è il suo modo di porsi, la sua ricerca dell'unità, la ricerca di ciò che unisce piuttosto che ciò che divide, è veramente una ricerca che va in direzione della pace e Papa Giovanni ci consegna questo messaggio. Noi non possiamo mai dar per scontata la pace. La pace è cosa da costruire ogni giorno e da accogliere come un dono per coloro che credono, proprio un dono che scaturisce dalla fede in Dio. L'altro grande messaggio è quello che investe la vita della Chiesa, una Chiesa capace di parlare al cuore di tutti gli uomini e credo che questo sia molto significativo. Oggi si parla tanto di Chiesa missionaria, bene Papa Giovanni ha incarnato questa missionarietà parlando al cuore di tutti gli uomini e quindi superando di fatto i confini della Chiesa e questo è un messaggio che noi oggi avvertiamo l'esigenza di raccogliere in maniera più forte addirittura rispetto al tempo in cui lui è vissuto. Io credo che innanzitutto bisogna raccontare la storia di Papa Giovanni, bisogna dare la possibilità ai giovani di vedere le immagini di Papa Giovanni, di vedere i luoghi di Papa Giovanni, di respirare un'aria che Papa Giovanni ha respirato. Quindi raccontare la sua storia e raccontare una storia in ultima analisi di una giovinezza spirituale. Papa Giovanni diventa Papa già molto anziano e comunque quello che lui ha testimoniato agli uomini è questa forza della giovinezza spirituale. La giovinezza spirituale affascina, affascina tutti, affascina gli anziani, ma affascina in un modo particolare i giovani, i quali la vivono perché sono giovani. Vedere una giovinezza spirituale in chi non è più giovane è un segno che provoca, che interroga appunto sulle ragioni di questa giovinezza spirituale. Sotto questo profilo credo che appunto la giovinezza spirituale di Papa Giovanni possa essere una strada per i giovani per conoscerlo, per scoprirlo, ma alla fine anche per loro una strada per arrivare ad amarlo e a riconoscere il dono che Papa Giovanni è stato per la Chiesa e per il mondo.